Le aiuole di moltiplicazione abbiamo diverse piante coltivate per similitudine di crescita, esposizione, in modo da poterle anche poi vedere come crescono in futuro qui in giardino nella loro forma poi da pianta adulta. Tra le piante moltiplicate abbiamo geranium, campanule, aster che non a caso sono nella stessa aiuola di coltivazione perché sono delle piante che consigliamo di coltivare nella stessa aiuola o negli stessi vasi.